secondo quanto riferito il principe ferri era stato avvertito che aveva abbastanza materiale per un secondo libro dopo l'uscita di spera gennaio secondo quanto riferito il principe ferri ha omesso dettagli segreti nel suo libro di memoria sper per paura che avrebbe fatto arrabbiare suo fratello maggiore il principe william ferri ha pubblicato le sue attesissime memoria gennaio 18 mesi dopo il suo annuncio iniziale nelle 416 pagine lette ferri ha condiviso varie affermazioni sul suo periodo come membro della famiglia reale senior comprese quelle sincere su william nonostante ciò ora sembra che le affermazioni di ferri fossero solo la punta dell'iceberg poiché in precedenza era stato avvertito che ne aveva abbastanza per un potenziale secondo libro pochi giorni dopo il rilascio di spera ferri dichiarò di aver omesso alcuni aneddoti su suo padre e suo fratello poiché temeva che avrebbero potuto non perdonarlo se fossero stati rivelati al mondo dopo la sua pubblicazione ferri rivelò che il manoscritto originale era lungo il doppio della versione effettiva e includeva molti dettagli che finirono per essere tagliati a volte aveva anche lottato su cosa avrebbe dovuto rivelare e cosa no condividendo il fatto che erano state effettuate più di 50 chiamate zoom al suo ghostwriter parlando al telegraph ferri ha detto avrebbero potuto essere due libri mettiamola così e la parte difficile è stata tirare fuori le cose ferri ha aggiunto ci sono alcune cose che sono successe specialmente tra me e mio fratello e in una certa misura tra me e mio padre che semplicemente non voglio che il mondo sappia perché non credo che lo farebbero mai perdonami grazie a tutti